Pienoni in centro e tanto divertimento per tutti. Come da tradizione, il 15 agosto per i termolesi non è solo Ferragosto, ma anche e soprattutto l'incendio del Castello Svevo. Il concerto di Ricky Porteira, gli stand, le bancarelle e la musica di Lidia hanno animato il lungomare e intrattenuto migliaia di turisti in attesa del celebre incendio, un appuntamento che i cittadini termolesi aspettano ogni anno con grande entusiasmo. Ogni stagione la performance di luce e colori a picco sul mare, che incende artisticamente e idealmente il castello e il borgo antico della città, si conferma l'evento degli eventi, quello dei grandi numeri in fatto di presenze. Una manifestazione che prende il via ben prima della mezzanotte, quando i fuochi pirotecnici illuminano il mare. Armati di tele asciugamani, i veterani dell'incendio del castello attendono l'inizio dei fuochi seduti in spiaggia, un evento di grande valenza turistica dunque, ma anche storica, in ricordo dell'assalto dei turchi, un momento che riesce a strappare sempre più grandi applausi da parte del pubblico e grande meraviglia da parte dei nuovi visitatori.